Incidente sul lavoro a Marina di Grosseto. Un uomo è caduto ieri sera dal terzo piano mentre stava lavorando in un cantiere nella zona di Via Piave, all'inizio del lungomare, Leopoldo II di Lorena. Il 47enne, un operaio di una ditta di Cascina, è caduto dal balcone del terzo piano sul piano sottostante il secondo. Immediati i soccorsi della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia e dell'elisoccorso Pegaso, atterrato sulla spiaggia che ha trasferito l'uomo all'ospedale Le Scotte di Siena in codice 2, con traumi vari. Immediatamente sono scattate le indagini da parte dei carabinieri e del Dipartimento Prevenzione, Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro della ASLE Toscana Sud-Est. Sul posto erano presenti anche i vigili del fuoco di Grosseto che hanno raggiunto il ferito con l'autoscala. Le condizioni dell'operaio, seppur gravi, non sono tali da pregiudicarne la vita.